Buonasera, buonasera a tutti, sono Molaika Enriello dell'Accademia ISSA di Studi Interreligiosi di Milano, in collaborazione con la sede di Torino e con il Centro Culturale d'Aralicma di Torino e con la Corese Italiana. Siamo in diretta a Facebook questa sera eccezionalmente per ragioni logistiche, nonostante sia finito finalmente il lungo periodo della chiusura per le pandemie. Questa sera siamo in collegamento con interlocutori da diverse regioni d'Italia, io vi saluto e vi parlo da Milano, abbiamo la Suamini Shudd Ananda Ghiri dell'Ashram Ananda Ashram di Altare in provincia di Savona in rappresentanza della vicepresidente dell'Unione Induista Italiana, Suamini Hamsananda Ghiri. Abbiamo la reverenda Elena Seishin Viviani da Torino, vicepresidente dell'Unione Buddhista Italiana, che anche lei come le amiche dell'Unione Induista ci onora tutti gli anni da diverso tempo con la sua presenza e così con i preziosi insegnamenti delle tradizioni orientali, che questa sera saranno un po' l'oggetto, con l'accoronamento del ciclo di incontri sulla cosmologia Non ammo ciò che tramonta, a cui abbiamo dato però un titolo più islamico, appunto Non ammo ciò che tramonta, è una citazione dal Corano e quindi accompagna queste due voci delle tradizioni orientali, un rappresentante della Coreis di Torino, Idris Abdara Zagbergia, che darà la prospettiva islamica come un po' così da anni, ormai è il decimo anno, come è stato ricordato anche negli scorsi incontri, è il decimo ciclo di incontri dei giovedì della sapienza islamica e avremo anche modo così di ripercorrere il perché e il come anche questa sapienza islamica ama interloquire, ama anche confrontarsi con la sapienza delle altre tradizioni. Quindi riprendo un po' questo filo conduttore delle parole di Abramo che ci ha accompagnato lungo questo ciclo di incontri dedicati alla cosmologia, non solo tra Oriente e Occidente, come dice il titolo della sessione di stasera, ma anche per chi ha potuto seguire da quest'inverno, quando abbiamo avviato questo lungo dialogo e anche lungo articolato, un dialogo sulla cosmologia anche tra dottrine tradizionali e sensibilità scientifiche. Queste parole di Abramo che pronuncia, secondo il Sacro Corano, nel contemplare i segni del sole, della luna e delle stelle, suggerendo la possibilità di avvicinare anche prospettive diverse alla ricerca del mistero della creazione, dove la sete di conoscenza di Abramo lo porta sempre a ricercare qualcosa di più eterno, di più principiale che non i segni del creato, accompagnati dalla visione metafisica di Abramo, abbiamo cercato di dare all'inizio così una visione anche interdisciplinare di come sia nel mondo scientifico, sia attratti da questo mistero dell'universo, magari in modi diversi, in modi anche molto diversi dalla prospettiva religiosa, ma abbiamo avuto il piacere e l'onore di essere accompagnati da scienziati di grande prestigio che hanno però messo in gioco qualcuno la sua sensibilità religiosa di cattolico, osservante e credente, e altri una onestà intellettuale che è un po' la qualità che permette anche alla laicità di interloquire con le religioni. In incontri successivi si è poi approfondito più dal punto di vista proprio della sapienza islamica la possibilità con l'aiuto di maestri come Ibn Arabi di mettere in ordine i piani, cioè dare a ogni cosa il suo posto in modo da avere una visione più profonda e sicuramente si spera non semplicistica di come appunto ogni cosa, dalle prospettive più di osservazione fisica alla simbologia che ci porta invece a intuire le realtà più metafisiche, che possano trovare il loro ordine e la loro possibilità di manifestazione e anche di interazione se sono ben guidate da una disciplina, da una conoscenza. Anche in questo caso ci hanno aiutato sia studiosi universitari, quindi accademici, ci sia maestri spirituali come i maestri Pier Muhammad Gualini e lo sheikh Yahya Pallavicini di due diverse turuk, di due diverse vie contemplative islamiche. Questa sera appunto ci accompagnano in questa fine di un percorso con il tema cosmogonia ed escatologia tra Oriente e Occidente, i cicli cosmici e le quattro età del mondo. Appunto già presentato, Swamini Shudananda Ghiri, la reverenda Elena Sissin-Biviani e Idrissa Barasak Bergia. Il tema della cosmogonia e dell'escatologia ci riporta a un confronto così come a un confronto tra l'inizio e la fine del creato e qui l'attenzione che posso, così da spettatrice che sarò e da facilitatrice un po' dei dialoghi e delle conversazioni anche con il pubblico che speriamo ci segua numeroso e dal quale attendiamo anche interazioni tramite la pagina Facebook dell'ISA Interreligious Studies Academy su cui viene pubblicata la diretta di questo incontro anche con domande in chat che speriamo arriveranno. Questo tema ci ricorda l'inizio e la fine, ecco, inizio e la fine che può essere sia a cui possiamo farci la domanda del come, cioè come è l'inizio, come è stato l'inizio e come sarà la fine. Ma da religiosi, forse per chi è religioso, forse più che il come lo stimolo di un racconto o di una spiegazione su questi temi è del perché oppure come mi coinvolge, come mi tocca. E quindi penso che sarà un incontro, speriamo che sarà un incontro molto interessante anche così dal punto di vista del dare una risposta anche alle domande di senso, come si suol dire, che da qualche anno a questa parte ormai ci sollecitano molto sul che cos'è il mondo e perché siamo qua, ma non soltanto perché siamo al mondo, ma perché siamo in questo particolare mondo e come sarà il seguito. Quindi speriamo davvero che l'incontro tra le tradizioni più antiche, induismo e buddismo e l'ultima tradizione che è l'islam, ci aiuti un po' a dare una visione particolarmente ampia e anche particolarmente profonda di questa ricerca di senso nella contemplazione del creato. Con questo, mi scuso di aver già parlato anche troppo, passo la parola andando in ordine cronologico a Swamini Shuddhananda Aghiri per la sua prima relazione e ringrazio. Namaste a tutti, grazie per questo invito e soprattutto auguri di un periodo ramadan che state vivendo e quindi ci sentiamo vicini a questo periodo particolarmente importante. Il tema cosmogonia e discatologia nella tradizione hinduista, appunto quando si parla di cosmogonia e quindi anche di origine del mondo, degli universi, sappiamo che ci sono tantissime visioni di come il mondo, di come l'universo è venuto ad essere. E quindi anche a seconda delle varie prospettive, se partiamo dal punto di vista del Vedda, quindi dei racconti o comunque dei versi del Veda che ci parlano di questo inizio del mondo fino ad arrivare appunto alla tradizione puranica, quindi più tardi di questo corpus di testi che sono appunto seriori, vediamo che c'è una trasformazione delle visioni della creazione, sebbene un concetto chiave che ci appunto aiuta molto a comprendere o entrare un po' nell'anima dell'induismo è quella della concezione ciclica del tempo che vedremo poi come si anche declina negli aspetti più specifici delle quattro ere, quindi dei quattro yuga che sono appunto caratteristici della visione del tempo appunto nella tradizione hinduista. All'inizio appunto c'è un bellissimo inno del Veda che è una sadia supta in cui appunto si narra l'origine di tutto e dice questo fu il primo seme della mente del creatore quelli che possono vedere oltre, unendo la loro mente al loro cuore trovano il vincolo che lega l'esistente al non esistente il non esistente esistendo nell'esistente ecco basterebbe questo inno particolarmente suggestivo per poter concludere diciamo questo incontro perché in realtà in questo inno è racchiuso proprio anche il significato e quindi anche l'escatologia c'è il mezzo per uscire diciamo così da quello che è il dualismo che caratterizza la manifestazione quindi in questa immagine in cui c'è questa infinita spazialità in quest'ansia assenza di tempo e spazio l'uno respirava senza secondo, senza respiro e quindi c'è questa assenza di dimensione del tempo e dello spazio che vengono ad essere nel momento in cui invece la manifestazione sorse e qui c'è un'immagine molto bella che appunto sorse il primo desiderio che viene, questa è una traduzione un po' infelice ma che nella terminologia sanscrita è Kama Kama vuol dire appunto è il desiderio nel vero senso della parola quel desiderio, quell'ardore creativo che esprime il concetto appunto dell'amore quindi tutto nasce da questo amore da questo tapas che dà vita a tutta appunto la manifestazione e in questa visione appunto comprendiamo come poi nel venire ad essere del man mano che si sviluppa le forme, il nome e quindi quello che caratterizza la manifestazione così come la conosciamo e la limitazione quindi noi nel senso nella dimensione temporale siamo limitati come esseri umani come esseri appunto come organismi che viviamo questa nostra esistenza principalmente dal tempo, dallo spazio e da tutta un'altra serie di condizionamenti che se vogliamo dire così intervengono nel momento in cui questo assoluto senza qualità, senza forma, senza nome quindi quello che le Upanisha ci dicono essere ibramman o paramatman a seconda appunto delle terminologie che vogliamo usare man mano che questo assoluto infinito acquista qualità, acquista attributi man mano appunto diventa saguna quindi con attributi e quindi in un certo senso si limita egli stesso affinché la manifestazione possa avere vita possa avere inizio e questo è uno dei tantissimi inni che parlano della creazione e un altro molto bello molto suggestivo è quello appunto dell'Irania Garbo l'Irania Garbo ha tradotto in termini appunto in italiano significa il grembo d'oro questo grembo d'oro che dimora nelle acque cosmiche nelle acque eterne da questo grembo nasce appunto si divide questo uovo cosmico se vogliamo tradurlo in modo un po' meno poetico ma quantomeno questo uovo questa diciamo si divide in due e da questa scissione nascono le tre dimensioni appunto della manifestazione che questo lo ritroviamo anche nel Veda quando si appunto troviamo il richiamo a Bur o a Suaccia le tre dimensioni della Terra dello spazio intermedio e del cielo e quindi da questa divisione iniziano a venire ad essere tutte le appunto le creature tutti gli esseri che popolano la Terra così come tutte le sfere celesti quindi tutto ciò che rappresenta la vastità degli universi perché una particolarità appunto che ci narra il Veda o che ci narrono le scritture appunto è questa presenza questa esistenza di pluri universi quindi anche un richiamo molto stretto con anche le ricerche o le scoperte della fisica moderna quindi ci sono tantissimi richiami anche alla concezione dell'atomo quindi anche di come dall'ANU che appunto è questa piccolissima particella poi abbia inizio anche tutta la vita anche biologica, fisiologica quindi anche il Rishi il veggente che indaga immaginiamo queste figure di Asceti di veggenti che indagavano profondamente nella propria natura quindi nell'intimità della meditazione all'interno della foresta appunto hanno questa visione cosmia quindi dell'assoluto e che riportano anche in una trattazione una descrizione anche molto accurata degli aspetti astronomici quindi anche di come tutta la manifestazione anche nei suoi aspetti appunto fisici e biologici viene descritta nel Veda e in queste descrizioni è molto suggestivo un altro mito cioè mito poi con la parola mito a volte viene interpretata in senso riduttivo se per mito intendiamo appunto visione o comunque rappresentazione simbolica di quello che è poi in realtà un insegnamento una realtà di conoscenza più alta e vediamo appunto che nella rappresentazione del Purusha Sukta il Purusha Sukta è un inno al Purusha Purusha è la figura della diciamo l'essere l'uomo primordiale non in senso di genere maschile ma in senso di Purush Isha cioè vuol dire colui che risiede nella città nella città che simbolicamente rappresenta il cuore divino e appunto questo Purusha viene immolato simbolicamente viene si sacrifica e da questo sacrificio primevo inizia avviene tutta la manifestazione ed è suggestivo a proposito di questo discorso che facevamo a cui accenavo prima della ciclicità del tempo come in questa visione della creazione attraverso il sacrificio del Purusha la creazione stessa avvenga attraverso la memoria cioè quindi i risci veggenti gli dèi stessi attraverso il ricordo di quello che fu le manifestazioni le creazioni precedenti danno atto danno vita a una nuova creazione e quindi questo detto ovviamente in modo un pochino veloce perché non vorrei togliere neanche tempo agli altri relatori ma in questa visione appunto del Purusha in cui tutto la primavera il sole la luna le stelle i pianeti tutto fa parte di questo del corpo stesso di questo uomo primeo di questo essere primigenio appunto da cui poi tutto ha inizio e in questa rappresentazione ci si parla appunto di questa ciclicità del tempo ma anche una ciclicità eterna se vogliamo dire così di di nascita quindi di creazione di mantenimento e di trasformazione e quindi in questo susseguirsi di questa triplicità di funzioni divine in realtà abbiamo una serie di creazioni manifestazioni e distruzioni appunto che noi possiamo poi definire nella parte diciamo della distruzione viene chiamato tecnicamente il pralaia cioè i momenti in cui c'è un riassorbimento del processo creativo fino a un successivo momento di germinazione dell'universo in tutto questo però in questa ciclicità verrebbe da pensare noi esseri umani ma non solamente esseri umani ma anche tutti gli esseri che appunto fanno parte della creazione della manifestazione divina quale sia lo scopo cioè che facciamo nasciamo continuiamo allora daremo adito a questa visione dell'induismo che appunto crede nella rinascita e quindi in continuo nascere e morire la stessa vita nel stesso processo anche se vogliamo dire così filosofico quello che conosciamo come il samsara cioè la ciclicità del mondo quindi anche delle nascite e delle morti daremo adito appunto a questa visione dell'induismo come un continuo girare peregrinare nelle nascite e le morti in realtà quello scopo dell'uomo come di tutti gli esseri è quello di emanciparsi da questa ciclicità per tornare appunto in questo stato che abbiamo appunto letto nelle parole suggestive del verso del Veda in cui si dice appunto è tutto oltre il tempo oltre lo spazio cioè quindi di fatto lo scopo dell'uomo è quello di trascendere la dualità e per trascendere la dualità deve riscoprire questa sostanziale unità questa sostanziale di fatto identità con questa sorgente divina con questa sorgente assoluta da cui non ci siamo mai distaccati e non siamo mai distinti dal Brahman dall'assoluto ma a seconda poi delle visioni teologiche delle teologie ci dimentichiamo chi siamo di fatto e quindi tutto il cammino e tutto il percorso di ripresa di consapevolezza è proprio quello scoprire riscoprire quello che noi in realtà già siamo e se vogliamo richiamarci a un verso comunque dei passi delle Upanisha noi siamo Sat Cip Ananda ovvero quelle tre qualità appunto quelle tre definizioni di quel Dio che non può essere definito ma che ci può aiutare appunto ad avvicinarci a un'idea di verità cioè Sat è tutto ciò che non muta tutto ciò che non cambia quindi è oltre la dualità Cip è consapevolezza quindi è ciò che è di fatto e Ananda è quell'eterna beatitudine quell'eterna gioia che è gioia sostanziata appunto di se stessa quindi non ha bisogno di qualcosa di esterno ma è gioia perché appunto è eterna e assoluta quindi questo detto molto velocemente quello che è appunto l'origine lo scopo e anche il fine e come raggiungere questo stato di emancipazione quindi quello che viene chiamato anche come mutti è tutto il percorso che il fedele o comunque il devoto compie attraverso appunto una condotta quindi una condotta etica attraverso una ricerca interiore attraverso anche tantissime vie che l'induismo comunque offre da un certo punto di vista a seconda anche dei temperamenti anche dei caratteri delle attitudini di ciascuno di noi e quindi la visione appunto anche della creazione delle creazioni si sposa perfettamente anche con quello che è il concetto di Cari ovvero di condotta perché vedremo che appunto questa idea di questa ciclicità si accompagna anche a un processo di degenerazione morale di degenerazione etica e che sappiamo appunto sappiamo appunto essere come dire in questo periodo ci troviamo nel Kali Yuga quindi in un periodo di degenerazione massima se vogliamo definirla così o periodo scuro come dice la parola stessa Kali vuol dire appunto ciò che è buio ciò che è scuro e seguendo appunto questa visione delle quattro ere quindi del Satya Treta o Treta Yuga del Krita e Duapara e Kali Yuga appunto c'è una progressiva diminuzione del Dharma quindi il Dharma che è tutto ciò che sostiene tutto ciò che è potremmo definirlo con parole semplici tutto ciò che è bene ma in questo bene è compreso la condotta è compreso l'ordine anche stessa della natura quindi anche il fatto che il sole sorgadest e tramonti ad ovest fa parte diciamo del campo di azione del Dharma da un punto di vista morale il Dharma è primo fra tutti la non violenza quindi tutti quei principi morali etici che aiutano a creare armonia cioè che producono il benessere al maggior numero di esseri possibili e quando dico esseri appunto includo anche la natura includo anche gli animali quindi più la nostra condotta è vicina al Dharma è conforme al Dharma e più diciamo la via verso lo scopo ultimo che è Moccia è più fluida è più facile è più facilitata più le nostre azioni sono adarmiche cioè quindi vanno contro questo principio di bene e più in primo luogo soffriamo noi come individui ma anche le nostre azioni diventano fonte di sofferenza di dolore anche per per gli altri e quindi la nostra responsabilità come esseri è non solamente nei confronti ma anche nei confronti appunto di quello che potremmo chiamare la famiglia umana nel principio di quindi c'è quindi c'è questa attenzione costante al principio appunto del bene comune del bene collettivo e questo è anche un aspetto importante perché quando si parla di scopo ultimo quindi lo scopo che è Moccia dell'uscita diciamo così dalla dualità da Nsamsara non parliamo solo noi per esseri umani nella visione tradizionale tutti tutti gli esseri in una progressione del tempo che può variare a seconda appunto degli esseri però in una prima o poi diciamo così prima o poi tutti passano per la via o per la porta che è appunto chiamata Moccia cioè dell'emancipazione in un processo che viene definito Kramoamukti ovvero una una liberazione un'emancipazione appunto e non so come i tempi non vorrei poi quando ditemi no no beh ancora cinque minuti poi faremo un secondo giro anche di così domande interesse perfetto quindi vado volevo dire solamente appunto che in questa visione dove ci sono tantissimi tantissimi come dire anche racconti della creazione uno di questi che vorrei anche accennare a cui vorrei accennare è la rappresentazione anche iconografica che forse qualcuno già conosce che è la raffigurazione iconografica di Shiva Natarajah e Shiva Natarajah è una perfetta sintesi di quello che un po' stiamo cercando di raccontare cercando un po' di trasmettere ovvero che la concezione della creazione è strettamente connessa anche alla sua appunto emancipazione cioè quindi nella raffigurazione di Shiva Natarajah che è il signore dei danzatori la percellenza e anche il danzatore il signore dei danzatori attraverso lui nelle mani tiene un damaro un damaro è un piccolo tamburello se vogliamo dire così che con il suo appunto il ritmo del damaro scandisce appunto l'inizio della manifestazione quindi attraverso il ritmo attraverso la sua danza l'intero universo inizia appunto a venire ad essere e questo è anche legato a un aspetto invece della creazione vista come appunto espressione del suono creativo nel veda un'altra visione molto importante è quella del potere creativo della parola quindi di vaccio quindi un aspetto femminile e dove il suono è potere che crea quindi lì c'è tutta una scienza del suono che poi si richiama tantissimo anche la lingua sanscrita e sciva appunto è una di queste raffigurazioni che racchiude in sé le cinque non a caso si parla delle cinque azioni principali sciva di pancia e crittia e che sono appunto creazione sostenimento manifestato sostentamento diciamo mantenimento della vita velamento quindi anche questa questa funzione che è una funzione stessa di dio di velare la realtà quindi noi siamo come obnubilati in questo sogno in cui ci identifichiamo con la nostra identità con l'io e il mio e perdiamo consapevolezza di quello come dicevo prima di essere in realtà sciva stesso e quindi appunto però è una di queste funzioni di dio e nello stesso tempo la funzione anche è la grazia quindi anugra quindi attraverso il processo di creazione mantenimento velamento ma poi avviene anche il processo della grazia e quindi anche in questa in questa iconografia che purtroppo non ho preparato un'immagine ma ci sarà modo di magari di condividerla in questa iconografia appunto queste cinque funzioni sono espresse dagli attributi che sciva tiene nelle mani e anche appunto dalla stessa postura del corpo quindi la rappresentazione di una una gamba alzata e il dito della mano destra che indica la via al devoto e quindi indica la gamba alzata come per dire appunto gli indica la via della trascesa della trascendenza e in questa stessa iconografia di sciva c'è anche la rappresentazione o comunque questa questa immagine o questo importante aspetto che sciva o come sciva ma può essere appunto qualsiasi nome del divino è immanente cioè presente nella manifestazione ma nello stesso tempo è trascendente e quindi questo è anche una via di uscita in un certo senso per ciascuno di noi perché attraverso anche la via che noi stiamo compiendo anche attraverso il cammino nel mondo abbiamo gli strumenti sebbene in un periodo scuro sebbene nel Kali Yuga abbiamo molti più strumenti se vogliamo appunto come dire sfruttarli e prendere atto di questa possibilità di fare un percorso a ritroso e quindi di scegliere la via Nivritti ovvero di ritornare alla sorgente ritornare a quel principio come dice la parola stessa Nivritti cioè di assenza di modificazioni assenza di turbolenza che sono poi di fatto le nostre turbolenze mentali le nostre appunto modificazioni emotive che poi ci portano ad agire e l'azione sappiamo che se non è un'azione giusta ci porta appunto delle conseguenze spiacevoli o quantomeno ci allontana un po' dalla meta e quindi con questa idea vi lascio poi eventualmente ci sarà un modo appunto di approfondire o di fare domande grazie grazie molte Shuddananda sicuramente facciamo un secondo giro così riusciamo anche a interagire un po' nelle diverse relazioni voglio riprendere alcune cose ringrazio veramente tanto per questa ricca e purtroppo sempre un po' sacrificata nel poco tempo che abbiamo a disposizione esposizione appunto della dottrina tradizionale hindu che veramente di una vastità come dicono molti testi sacri inesauribile ecco che non si potrebbe esaurire nemmeno usando tutte le risorse della terra riprendo alcune cose che mi sembra che possano forse essere utili ma poi anche in un secondo giro anche Shuddananda potrà riprenderne altre ad esempio le parole la primordialità quindi abbiamo sentito anche un accenno all'uomo primordiale quindi anche alle figure dell'uomo distinta tra il velo e invece la sua natura che che non conosce o che dimentica e a proposito della dimenticanza dell'uomo che forse un concetto più islamico verrà ripreso dopo la memoria mi colpisce che anche nell'induismo ci sia questa centralità nella funzione creatrice proprio della memoria quella che forse sentiremo se ha una corrispondenza anche nel buddismo ma sicuramente nell'islam tradizionale sapienzale ha una centralità ha un ruolo veramente cruciale ecco come concetto magari diverso da quello che viene inteso oggi in occidente e così come anche la consapevolezza dei veli che forse a rifletterci è quello che definitivamente anche se ci possono essere delle analogie come ha detto Shuddananda la consapevolezza dei veli è quello che distingue la scienza sacra dalla scienza moderna che invece cerca di descrivere i veli in tutti i dettagli possibili ma sembra non avere interesse o non saper andare al di là di questo velo del mondo manifestato così con questi piccoli spunti che spero potremo riprendere anche in una interazione tra i tre relatori ringrazio ancora Shuddananda e passo la parola alla reverende Elena Sheshin Viviani per la sua relazione sul buddismo grazie grazie mille grazie agli ospiti e grazie alla introduzione di Shuddananda allora io mi sono fatta un po' di slice perché l'argomento della cosmogonia e dell'escatologia è abbastanza ardo diciamo nel buddismo e diciamo che se ne parla molto nel buddismo antico però vorrei partire proprio dalla fine di tutto diciamo dalla fine mettendo in evidenza questo che è noto come il Buddha avesse una prudenza pragmatica nei confronti delle questioni che non fossero strettamente legate al risveglio spirituale cioè a ciò che libera l'individuo dalla sofferenza da Dukka dalla sofferenza esistenziale nell'eterno passaggio da una vita all'altra e quindi per giungere poi al non condizionato alla dimensione non condizionata cioè al nirvana resta il fatto però che vennero poste quelle che vengono chiamate le quattordici domande difficili al Buddha e otto riguardano preoccupazioni di tipo cosmologico le domande sono queste sono il mondo di sé eterni non sono eterni sia eterni che non eterni né eterni né non eterni sono il mondo del sé finiti infiniti sia finiti che infiniti né finiti né infiniti ecco queste domande a cui il Buddha normalmente avrebbe secondo la tradizione rifiutato di rispondere a tutte le domande diciamo cosiddette metafisiche le domande la cui risposta prevedeva non un'esperienza diretta dell'uomo alla fine Buddha si concentra su domande che sono a suo a suo dire rilevanti queste domande diciamo appunto sulle diciamo metafisiche invece sulla costituzione del mondo sulla cosmogonia non sono considerate rilevanti per la liberazione quello che è importante invece per il Buddha sappiamo sono le quattro nobili verità che Shakyamuni stesso aveva scoperto e che devono essere invece comprese meditate cioè esperite individualmente da ogni seguace però col passare del tempo questo tipo di argomenti di natura metafisica e cosmologica diventano di fatto importanti soprattutto dopo i concili indetti dall'imperatore Shoka e da Kanishka quindi c'è una tendenza che poi si verifica anche nei primi secoli per esempio del cristianesimo di organizzare un pensiero su questi argomenti quindi diventano importanti questi argomenti cosmologici scusate per via delle loro conseguenze dottrinali per esempio il problema del tempo il numero degli esseri l'oniscenza del Buddha e quindi diventano pastorali un sutra io parlerò di siccome il buddismo vuol dire è un veramente un mare magnum di tradizioni parlerò più che altro del buddismo antico dove queste argomentazioni sono più sviluppate ma prima ancora di questo vorrei vorrei parlarvi di un sutra la Gagna Sutra che è un sutra in cui contenuto nella raccolta di Ganikaya scusate nella posizione dei sutralunghi in cui il Buddha affronta il problema appunto della nascita della terra della nascita del cosmo in questo sutra è particolarmente importante scusate perché il Buddha parlerà a due bramini che avevano lasciato la propria casta e avevano intrapreso il percorso buddista ed erano diciamo rifiutati dalla propria comunità quindi in questo in particolare in questo sutra non solo il Buddha affronta le questioni cosmogoniche ma affronta anche le questioni legate alle caste quindi darà la sua diciamo visione secondo la quale non esistono diciamo le caste che invece non esistono comunque non sono quelle il punto importante il punto importante è il Dharma il Dharma è cioè quindi l'insegnamento la legge l'ordine cosmico è l'unica legge importante da seguire e a cui conformarsi quindi taglia di fatto qualsiasi tipo diciamo di discussione sulla questione appunto della suddivisione in caste proprio parlando con due bramini tra l'altro in questo sutra parla proprio in questo sutra si affronta la cosmogonia buddista temporale come tra l'altro sappiamo il buddismo si nasce diciamo in un ambiente che è quello di fatto dell'india antica induista e ne deriva anche le linee generali quello che vi metterò un po' in evidenza è appunto come dico in questa questa slide il viaggio meditativo della rata la rata è il santo del buddismo antico di fatto è colui che può accedere al risveglio e questo viaggio meditativo è un equivalente psicologico di una scesa cosmica cioè il corrispondente microcosmico di una realtà macrocosmica ritorniamo al nostro sutra a Ganya Sutra in questo sutra si parla di cicli di creazione e di istruzione successivi e perpetue dell'universo che si realizzano a intervalli regolari appunto si parla di maha kalpa che sarebbe l'unità di misura degli interventi ciclici di distruzione e dissoluzione questo maha che vuol dire questo grande kalpa maha non ha neanche diciamo termini noi traduciamo come grande ma non ha un termine di paragone si divide poi in quattro kalpa minori come vediamo dalla slide abbiamo il savata kalpa leone di dissoluzione abbiamo un kalpa di transizione il savata tatia kalpa il leone di dissoluzione permanenza a cui segue vivatta kalpa un eone di evoluzione a cui segue il quarto ed ultimo kalpa minore leone di evoluzione il vivatta iha kalpa leone di evoluzione di permanenza a loro volta poi questi quattro scusate questi quattro kalpa minori si suddividono in 256 antara kalpa per dire per definire che cosa sia un maha kalpa è un'unità di misura degli intervalli ciclici di distruzione appunto e di dissoluzione è un intervallo di tempo che non è definito però è molto molto lungo ci sono due versioni che dicono con una certa approssimazione che definiscono la durata di questo kalpa si dice che un maha kalpa è un periodo di tempo necessario riempire un buco cubico di 16 chilometri per lato buttando al suo interno un piccolo seme di mostarda ogni 100 anni e ancora per definire proprio la lunghezza di questo periodo di tempo si dice che è il periodo di tempo necessario a spianare con un fazzoletto di seta il monte quindi capite bene che parliamo di tempi eterni in ogni caso questa età non giunge al completamento fino a quando le diverse sostanze che compongono l'universo non sono completamente consumate queste sono le sostanze che compongono la terra il monte mero che è naturalmente diciamo l'aspetto assiale è il centro dell'universo e le regioni più elevate dove risiedono le divinità supreme gli esseri più puri e perfetti anche in questo caso scusate ecco anche in questo caso tutti gli esseri non hanno un'esistenza apparente non essendo altro che il prodotto dell'illusione quindi stiamo parlando di una cosmogonia proprio mitologica nel sutra di cui facevo a cui facevo riferimento appunto come ho detto si divide in quattro calpa e vorrei un attimo parlarvi prima di parlarvi della parte diciamo spaziale della cosmogonia vorrei parlarvi della parte temporale il sutra dice Basetta che era uno dei due bramini primo dopo dice il Buddha un lungo periodo di tempo questo cosmo si contrae nel momento della contrazione molti esseri rinascono nella Bassara il mondo di Brahma qui essi vivono fatti solo di mente nutriti di gioia splendenti di propria luce fluttuanti nell'aria gloriosi e la loro esistenza è di lunga durata ma vi è anche un momento primo dopo un lungo periodo di tempo dove questo cosmo si espande al tempo dell'espansione molti esseri del mondo di Brahma nel trapassare da quel reame rinascono in questo mondo in questo mondo dimorano e sono fatti solamente di mente sono nutriti di gioia in quel periodo c'è soltanto una grande massa d'acqua non vi era che oscurità vedete che si riprende anche ciò che Shuddananda ci ha descritto inizialmente esiste grande massa d'acqua e non c'è altro che oscurità una cecante oscurità non erano apparsi nemmeno ne luna nelle stelle e nelle costellazioni non vi era né giorno né notte né mesi né settimane né anni né stagioni poi dopo molto tempo la terra colma di sapori emerge dalle acque dove dimorano quegli esseri proprio come la pelle che si forma sopra il latte bollito una volta freddo si manifestò così densa di colore odore e sapore nel momento della contrazione molti esseri rinascono nella Bassara il mondo di Brahma vivono fatti soldi in mente nutriti di gioia al tempo dell'espansione molti esseri del mondo di Brahma nel trapassare da quel reame sono rinati in questo mondo a questo prima fase corrisponde poi il ciclo di distruzione segue il ciclo di distruzione che potrà avere compimento in tre maniere dice il testo per mezzo del fuoco dell'acqua e per mezzo del vento mille anni prima del suo verificarsi ci sarà diciamo un genio che porterà diciamo discendendo dalle regioni celeste parlerà proprio del annuncerà al mondo la sua dissoluzione e in questo sutra si parla proprio degli agenti di dissoluzione di distruzione in questo secondo calpa il fuoco dice nello spazio di centomila anni non cadrà più nemmeno una goccia d'acqua la terra diventerà sterile la vegetazione la vegetazione arida non crescerà nemmeno un filo d'erba gli uomini e gli animali periranno di nedia dopo aver visto sparire il sole e la luna a questo periodo poi a questo fine di questo processo di distruzione che può avvenire appunto col fuoco oppure con l'acqua che comincerà a cadere prima come una leggera pioggia per poi inondare di solvere e sommergere tutto e seguirà poi il principio del vento dell'aria che distruggerà ancora tutti i tre elementi quindi acqua fuoco e aria che renderanno le montagne in polvere frammenti minuscoli e tutto si disperderà nello spazio dei 64 mondi che saranno soggetti al ciclo della distruzione finito questo tempo di distruzione vi sarà il terzo calpa quello dell'evoluzione allora il mondo ricomincerà quindi c'è un'evoluzione ancora il suo ciclo di creazione si vedrà rinnovato per mezzo di una pioggia abbondante che si condensa e viene descritto tutto il processo di formazione di nuovo del mondo la nostra terra si formerà dopo un milione e diecimila terre simili per ultimi saranno creati gli astri quelli che orbitano nello spazio e quelli che illuminano la volta celeste alla fine di questo ciclo di questa fase di creazione ci sarà poi il leone di creazione e di permanenza che inizierà con il primo essere che nascerà e morirà e gli uomini occuperanno la terra insieme con le divinità locali la durata della vita umana avrà un andamento molto variabile allo stato divino la loro durata sarà di diecimila anni la durata della loro esistenza però è soggetto ad un andamento prima crescente poi decrescente in relazione al karma cioè le azioni malvagie che verranno compiute da cui la completa si avrà una completa rivoluzione che si verifierà in un piccolo calpa dopo appunto la durata massima diciamo di questo periodo di stabilizzazione gli uomini passeranno ad una durata di vita di cento anni ad una fase invece in cui il ciclo riprenderà tutto il ciclo della creazione e distruzione riprenderà questa volta in senso contrario cioè subendo un incremento di anno in anno fino ad arrivare ad una vita di 84 mila anni questo diciamo è dal punto di vista cosmogonico sono le quattro età e quattro calpa che parlano proprio di una evoluzione e di una distruzione dal punto invece spaziale questo è interessante secondo la diciamo le fonti più attite l'universo è rappresentato in forma circolare alla forma di un disco circondato da una montagna scusate scusate un attimo no avete pazienza devo un attimo chiudere scusate perché se no non riesco a vedere va bene alla forma di un disco circondato da una montagna con il monte Chakravrala con il monte Mero al centro ci sarà un grande oceano c'è un grande oceano il Mahasamudra interno questo monte questo monte di ferro di Chakravala dove sono posizionati i quattro isole praticamente i quattro continenti sotto la terra comunque che è una delle quattro isole vi è uno strato d'acqua uno strato di fuoco uno strato d'aria e al centro del globo terrestre viene una ruota d'acciaio in mezzo alla quale sono conservate tutte le reliquie dei Buddha passati la terra appunto viene divisa come ho già detto in quattro continenti che sono distribuiti intorno al monte Mero che è diciamo l'aspetto diciamo assiale di tutta la creazione ad oriente abbiamo il Parvavidea a sud abbiamo Dejambu a occidente il Godanaia e a nord l'Uttarakuru esiste però anche un'estensione verticale in termini cosmogonici ci sono tre cieli il cielo il Kamadatu il cielo con il livello dei desideri il Rupadatu il cielo delle forme e la Rupadatu il cielo senza forma ecco questo è molto importante perché i tre cieli corrispondono a tre dimensioni della mente tenete conto che tutto il percorso diciamo di liberazione nell'ambito buddista ruota intorno alla mente quindi avremo il Kamavakara il Rupavakara e la Rupavakara quindi l'universo per tornare diciamo all'aspetto cosmogonico è uno si espande e si dissolve nel tempo e ogni Kalpa ovvero il periodo cosmico che divide in un periodo cosmico vede nascere solo Buddha colui che ha scoperto la via salvifica che indica agli esseri umani il Dharma questo questi quattro la suddivisione dei quattro grandi Mahakalpa resta e anche la cosmogonia però nel diciamo viene poi raffinata nel periodo successivo con una cosmogonia che noi chiamiamo Sahasra gli universi e Buddha in moltiplicazione questa cosmogonia scusate ok questa cosmogonia ha come diciamo centrale questa immagine del triplo chiliocosmo triplo chiliocosmo appunto Trisara Mahasara Lokadatu è formato da un grande chiliocosmo chiliocosmo che sono mille chiliocosmi medi un chiliocosmo medio che sono mille chiliocosmi piccoli e ancora un piccolo chiliocosmo mille universi gli universi sono quelli in cui noi viviamo in cui vivono gli uomini quindi potete capire che è un diciamo è un cosmo infinito questo vuol dire diciamo questo tipo di suddivisione in tre in tre grandi diciamo in tre grandi livelli gli universi su base sono quelli in cui vivono gli uomini di cui ho parlato prima il chakravala il singolo universo ogni singolo universo diventa così quello l'universo in cui vive l'uomo è l'unità metrico spaziale è l'unità di base per la misurazione del tempo il suo corrispondente in termini temporali appunto il maatapa cioè l'intervallo che abbiamo visto interviene tra un ciclo di formazione di distruzione e quindi rende possibile il passaggio successivo abbiamo ancora poi un'altra visione diciamo cosmogonica buddista le migliaia di mondi che corrispondono anche ai regni della meditazione vi ricordo sempre quello che ho detto all'inizio per il Buddha e per il buddismo il punto centrale è la liberazione quindi non è tanto la risposta delle domande metafisiche ma è un percorso un passaggio un passaggio attraverso il cui l'uomo si libera fondamentalmente da dukkha dalla sofferenza intesa in senso lato ecco i regni della meditazione forno nel Brahma Loka questo mondo nel buddismo primitivo c'è questo ordinamento verticale degli universi mentre invece in questo sviluppo questo di cui vi sto parlando adesso abbiamo uno sviluppo in cui i mondi sono ordinati orizzontalmente quando viene trasceso il regno del desiderio il kamadatu e delle forme rupadatu e viene realizzata la liberazione delle nascite la rata cioè il diciamo il santo il risvegliato non torna più ad esistere quindi in questa cosmologia che è successiva a quella che abbiamo presentato prima si verifica un'esplosione orizzontale degli universi però il modello di salvezza resta mutato cioè i regni della meditazione si sviluppano ancora con quella cosmologia che è verticale dove in che cosa consiste appunto la novità di questo di questa nuova visione delle migliaia dei mondi dei regni di meditazione è che la struttura del tripo kilocosmo è una condizione della natura di Buddha e è il suo campo di azione il Buddha quindi diventa a partire da adesso divinizzato e ha dei poteri cosmici quelle che vengono considerate le Siddhi cioè i poteri che utilizza per far comprendere agli uomini quali sono diciamo i passaggi per la via della liberazione il Buddha in questo nuovo sistema teologico infatti può moltiplicare le proprie immagini per rendere diciamo possibile la salvezza dell'uomini cioè uso dei mezzi abili upaya quindi la moltiplicazione delle sue immagini da un punto di vista cosmocologico questo significa che i Buddha in Irmana Buddha cioè i Buddha creati da Buddha stesso sono confinati all'interno di questo enorme cosmo infinito cosmo e assistono in preghiera il Buddha e si automoltiplicano allo stesso modo dell'universo che è in continua espensione ecco perché la chiamiamo la cosmologia dei mille resta comunque il fatto che la comparsa del Buddha è un evento rarissimo e la liberazione consiste nel coltivare le qualità del Buddha che resta ancora un esempio in questa fase del buddismo ma non ancora il salvatore la via quindi resta possibile a tutti ed è percorribile anche se non è semplicissima abbiamo ancora invece un'ultima cosmologia la cosmologia Asambakeya che ha a che fare con la Bhakti cioè la nascita della devozione Asamakeya vuol dire un innumerevole incalcolabile è secondo questa teoria del grande veicolo stiamo parlando del Mayana sapete che nel buddismo si identificano due grandi veicoli il veicolo Inayana il piccolo veicolo e il grande veicolo Mayana che sarà quello poi che permerrà è quello che è giunto diciamo nella forma fino ai giorni nostri che propone una figura che è quella del Bodhisattva il Bodhisattva a differenza diciamo degli altri santi della diciamo della tradizione buddista è colui che rinuncia alla sua propria liberazione fino a che tutti gli altri esseri non siano a loro volta liberati quindi abbiamo questo grande questa grande figura del Bodhisattva che fa proprio dei voti di rimandare la propria liberazione quindi è il massimo in qualche modo della è la massima espressione del buddismo del grande veicolo posticipa la propria liberazione dalla sofferenza fino a che non tutti gli esseri saranno liberati fino a che non saranno aperte tutte le porte del Dharma fino a che tutti gli esseri non abbiano percorso i sentieri del Buddha e questa è proprio la teoria cosmologica del grande veicolo secondo cui i Buddha sono situati nelle dieci direzioni dello spazio mentre la cosmologia precedente quella Sahasra è dominata dalle categorie temporali questa invece cosmologia mette l'accento sulle categorie spaziali in questo sistema la comparsa di un Buddha quindi non è più un evento raro e non è più un evento diciamo ma viene non viene rimandato a un dopo ad una posticipazione della liberazione ma diventa accessibile a tutti nel presente è interessante in questo senso leggere come si sviluppano in questa cosmologia questi passaggi abbiamo la figura di Buddha Shakyamuni che entra nel Samadhi cioè la grande concentrazione manifesta questi poteri miracolosi che sono legati proprio alla sua risveglio alla sua capacità di essere risvegliato alla realtà del mondo e viene omaggiato dai Buddha delle dieci direzioni questi Buddha che pregano con lui e attraverso questa operazione il nostro mondo viene trasformato in una terra pura quindi diventa presente accessibile la liberazione quando i Buddha quando Buddha entra nel Samadhi cioè entra nella grande concentrazione emerge diciamo produce questi raggi di luce emette questi raggi di luce che permettono agli umani agli esseri umani di visualizzare tutti gli altri Buddha in tutte le regioni dello spazio nelle dieci regioni dello spazio questo aspetto e soprattutto questo tipo di pratica questo tipo di visualizzazione tipica di un certo tipo di buddismo il buddismo tantrico nasce in questo momento questa quella che noi chiamiamo la teologia della luce perché si fonda proprio su una sull'attribuzione di queste sibi di questi poteri forze magiche attribuiti al Buddha in questa che moltiplica i mondi che rende visibili agli esseri umani e rende possibile quella che è la schetologia quindi la liberazione in questa cosmologia vi è una infinità di universi di Buddha in tutte le direzioni e per noi è possibile rinascere nella terra pura nella terra pura vengono piantati questi semi delle azioni virtuose e vengono chiamati campi di merito e sono per diciamo per la per la teologia buddista sono reali e lo spazio in questo momento diventa qualche cosa di non condizionato al pari del nirvana e quindi diventa un un ambito diciamo a cui si può attingere a cui si può assurgere vi ho voluto per concludere il mio intervento che non spero non sia troppo lungo e soprattutto che sia comprensibile vi ho voluto dare una 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 esemplificazione di che cosa intendiamo per un monumento cosmogonico nel buddismo vi ho questa prima slide che voi vedete rappresenta il Borobudur di Java a Singapore è appunto un monumento cosmogonico che dove viene diciamo rappresentata l'immagine e l'immagine del cosmo e la sua creazione è considerato uno stupa voi sapete forse conoscete il fatto che gli stupa erano tradizionalmente originalmente i luoghi dove venivano tenute le reliquie del Buddha ma in questo caso è molto interessante perché oltre a essere questo stupa ha una diciamo struttura mandalica e come sapete i mandala sono delle altre rappresentazioni molto spesso del cosmo e della mente liberata e servono al praticante a visualizzare il proprio percorso questo monumento che è stato tra l'altro patrimonio dell'UNESCO ed è stato è stato riportato diciamo alla sua magnificenza grazie all'intervento veramente di di tante forze non solo non solo da un punto di vista diciamo della concezione architettonica ma anche dal punto di vista economico perché ci sono voluti veramente milioni e milioni di dollari in questo caso per ricrearlo perché era andato un po' distrutto rappresenta proprio il cosmo in questa seconda slide vedete se puoi avviarti a concludere mi spiace interrompere in questo perché questo è proprio visivamente la rappresentazione di quello che ho spiegato prima della cosmogonia abbiamo i tre mondi Kamadato Rupadato e a Rupadato e sono diciamo sono fatti stratificati l'ultimo la Rupadato il senza forma è quello abitato dal Buddha ha una forma quadrata mandale mandalica e che rappresenta il mondo dei desideri le terrazze che si possono percorrere e questa è proprio una pratica precisa per il mondo buddista rappresentano il mondo della forma e infine lo stupa del vertice è il simbolo del mondo senza forma a cui si assurge dopo aver passato in tutti gli altri due mondi questo lo vedete in un'altra prospettiva vedete l'ultimo stupa e in questo ultimo slide vedete il rito della circombulazione Pradakshina fatta dai monaci che e quindi è un percorso questa cosmogonia viene ripercorsa la creazione del mondo i tre mondi fino a giungere alla liberazione nell'ultimo mondo nel mondo senza forma grazie grazie molte Elena Sischin Viviani anche di aver così aiutato a tenere i tempi un po' spiace aver accelerato quest'ultima parte effettivamente anche qui la la ricchezza di di nozioni e anche di stimoli intellettuali meriterebbe molto più tempo ma diciamo in questi incontri cerchiamo di dare degli spunti ecco di riflessione e di ulteriore approfondimento però colpisce effettivamente anche questo richiamo del Buddha a non a non disperdersi nella ricerca di di una conoscenza che si affina a se stessa ecco che non abbia poi un legame operativo con la col percorso di conoscenza e colpisce vedere in quest'ultima serie di immagini come una costruzione quindi un monumento che ha una valenza anche simbolica di richiamo così nel nel mito o nel muto come come diceva lo sheik abdalwakidiakia renegenon il mito è ciò che allude a ciò che non si può esprimere a parole e poi la ritualità che rende operativo questo contatto con con le realtà superiori non tanto il parlarne o il ragionarci sopra riprendo anche qua provo a riprendere alcuni concetti che poi spero che possano essere di spunto in una conversazione anche tra i tre relatori la prima di tutto questa dimensione della vastità del tempo della creazione o dei cicli mi spiace parlare secondo le categorie occidentali o abramiche questi tempi di cui si dà una misura con delle metafore o delle analogie che sembrano quasi incontenibili dal ragionamento con la fossa di chilometri da riempire con un seme piccolissimo buttato una volta ogni cento anni diciamo in questo riprendo c'è forse anche una somiglianza apparente nella scienza moderna quando dice ma la vastità del cosmo è tale per cui l'uomo è un nulla e quindi deve rendersi conto della sua piccolezza forse così chiedo poi potrà essere uno degli spunti di discussione in seguito alla terza relazione la prospettiva delle tradizioni tradizionale delle diverse tradizioni è sì di dare la giusta misura all'uomo ma l'uomo ci deve essere in qualche modo se fa parte in qualche modo della dinamica stessa per cui i mondi o il mondo o i mondi sono sono esistenti e questo spero che sia un punto di discussione così come riprendo i tre cieli dove ritorna la parola desiderio che abbiamo già sentito nella relazione di Shuddhananda il cielo dei desideri il cielo delle forme il cielo senza forma e anche qui riuscire a ricordarsi che forse parlo dal punto di vista adesso islamico mi aiuterà l'imam al-asad-bergia ciò che noi chiamiamo metafisica in realtà è diverso da quello che si immagina appunto lo studioso del mondo fisico che pensa che basta che una cosa sia invisibile ed è metafisica in realtà abbiamo visto abbiamo sentito soprattutto da da Seishin Viviani ma anche prima che ciò che è la realtà fisica è già molto al di là di quello che oggi ci si immagina diciamo la realtà manifestata non la realtà fisica va molto al di là quindi ciò che rientra nella cosmologia è infinitamente più vasto di quello che oggigiorno siamo abituati a considerare come il mondo o la creazione e quindi già solo ripristinare questo concetto e quindi immaginarsi ancora qualcosa che va ancora al di là come la così la preghiera citata da Suddhananda all'inizio del non esprimibile ma anche all'inizio della relazione di Elena con i vari grandi cicli che non sono della creazione ma sono un po' a monte della creazione se ho ben capito ci dà una misura diversa anche di che cosa stiamo parlando che forse non fa male di questi tempi in cui si tende un po' a un pragmatismo molto diverso da quello che è stato detto il pragmatismo del Buddha oggi siamo un po' in un pragmatismo che non ha nessuno sbocco di vera conoscenza mentre il pragmatismo del Buddha era verso la vera conoscenza e con questa riflessione che spero avremo un modo di riprendere lascio la parola all'imam Abd al-Razak Idris Bergia per la prospettiva islamica e credo approfondendo in particolare diversi sapienti della Tassawuf ma in particolare un sapiente persiano che è al-Biruni e grazie lascio la parola a Ilman Berger buonasera a tutti mi sentite sì salam alaikum ringrazio questa opportunità che è stata data dall'Accademia e anche dal Dara Al-Ikma di cui saluto il presidente Yunis Taufik ecco per quanto riguarda la questione dei cicli cosmici la prospettiva dell'islam è abbastanza differente è comune alle altre tradizioni del monoteismo abramico cristianesimo e l'ebraismo ma è abbastanza diversa in quanto si pone molto più concentrata se potremmo dire sulla priorità del destino dell'uomo all'interno di questo ciclo dell'esistenza quindi l'islam insiste sull'origine e sulla fine dell'uomo in questo ciclo dell'esistenza dell'umanità intera e della creazione tutta il presente ciclo dell'umanità inizia per la tradizione islamica con un patto che è avvenuto al di fuori del tempo e dello spazio fra Dio e gli uomini poi vi è lo stato primordiale di Adamo e Dawa nel giardino la caduta da esso che corrisponde alla nascita della storia intesa come costante lotta tra il bene e il male storia a cui mai è mancata la misericordia di Dio tramite i suoi messaggeri profeti gli inviati nelle varie tradizioni infine il tempo escatologico cioè quello in cui adesso stiamo vivendo come già accennato da Shuddananda siamo nel diceva nel Kali Yuga nell'età escura quindi quello in cui viviamo che è la fine di un ciclo è il tempo della fine di un ciclo e dell'inizio di un uovo il Sacro Corano recita nella seconda sura della Giovenca il versetto 30 e quando il tuo Signore disse agli angeli porrò un vicario sulla terra essi dissero metterai su di essa qualcuno che vi spargerà corruzione e vi verserà il sangue mentre noi ti glorifichiamo lodandoti e ti santifichiamo e gli rispose in verità io conosco quello che voi non conoscevi in questo racconto c'è un'allusione ad un ciclo precedente a quello di Adamo la funzione di califa califo attribuita ad Adamo è generalmente intesa come vicario o come luogotenente di Dio sulla terra ma significa anche successore successore di coloro che abitarono la terra prima di Adamo a tale proposito è interessante ciò che riportano nella loro esegesi del Corano i maestri Jalaluddin al Mahal e Jalaluddin a Suyuti citazione essi gli angeli dissero metterai su di essa qualcuno che vi spargerà corruzione con la disobbedienza e vi verserà sangue versandone tramite l'uccisione come fece la progenia dei Jin di essere i fatti di fuoco del ciclo precedente che popolavano la terra ma a causa della corruzione che essi avevano seminato Dio mandò loro gli angeli che li scacciarono verso le montagne e le isole fine citazione la disobbedienza al sangue menzionati dagli angeli non si riferiscono dunque secondo questa ed altre interpretazioni sapienziali solo alle possibilità negative a venire ma anche a una corrispondenza con lo stato di degenerazione del ciclo precedente a quello della presente umanità alla successione dei cicli cosmici fanno riferimento in modo esplicito alcuni passi del sacro Corano e della sunna del profeta citazione il giorno in cui la terra verrà cambiata in un'altra terra Corano 448 un giorno in cui arrotoleremo il cielo come un rotolo di volume Corano 21104 come abbiamo prodotto una prima creazione e la riprodurremo è un'altra parte dello stesso versetto come vi ho creato in principio allo stesso modo vi creerò di nuovo Corano 729 abbiamo anche un riferimento nella sunna del profeta Muhammad all'interno del suo sermone di addio il tempo compiuto il suo giro ritornando come era nel giorno in cui Dio creò i cieli e la terra il numero dei mesi dietro presso Dio e dodici dei quali quattro sono sacri un altro riferimento si trova in una tradizione relativa al viaggio notturno e ascensione del profeta riportata dal principe e sapiente indiano Muhammad Darassico nel libro La congiunzione dei due mari che studia le vicinanze tra la tradizione hindu e la tradizione islamica ovvi si narra che il profeta vide durante tale viaggio una carovana ininterrotta di cammelli che procedevano in fila e ciancun cammello portava due forzieri e in ciascun forziere vi era un mondo simile al nostro e in ciascun mondo vi era un Muhammad simile a lui e gli chiese a Gabriele che cosa significa tutto ciò e quello rispose ho inviato di Dio dal giorno in cui fui creato vedo andare questa carovana di cammelli e neanche io ne conosco il significato e di nuovo questa allusione ad un tempo infinito ed incontabile non contabile per uomo l'islam non abroga nessuna rivelazione precedente in maniera esplicita Allah nel sacro Corano che ha fatto discendere il Corano conferma dei messaggi precedenti Corano 3 è su tale base coranica che i musulmani dialogano con le genti del libro Akhl al-Kitab che sono riferito ai fedeli delle religioni che hanno fanno riferimento a dei testi sacri la Torah per gli ebrei i Vangeli per i cristiani ma anche altri fedeli che fanno riferimento ad altri testi a cui accenna la rivelazione coranica senza entrare in particolare a questo proposito è interessante rilevare come durante il Califato Mayade all'inizio della rivelazione dopo nel 661 750 dopo Cristo quando l'islam arrivò anche in India i buddhisti e gli hindù chiesero che fosse loro concesso di mantenere la libertà di religione che ottenero con quello che ancora oggi è noto come il concordato di Brahmanabal che dichiara anche i buddhisti e gli hindù genti del libro questo riconoscimento che a livello sampiaziale è sempre stato molto chiaro anche se non sempre la umma islamica ha condiviso questa 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 disponibilità alla riconoscimento ecco sta alla base di un fatto che alcuni sapienti e maestri musulmani hanno riportato nelle loro opere sulla ciclicità del tempo ed anche su altri argomenti i dati derivanti da altre dottrine in particolare dalle dottrine hindù tra questi il più noto vicino a noi è sicuramente René Guenon qui aveva già accennato la dottoressa Anriello noto nel mondo islamico con il nome di Abdal-Waqi Biakia autore di molti studi sull'argomento sull'argomento dei cicli ora raccolti in un volume dal titolo Forme tradizionale e cicli cosmici questo ci porta a parlare dell'aspetto cosmologico dell'attuale ciclo dell'umanità ed è interessante ed è una prospettiva un po' particolare questa di cui vi parlerò questa sera che è a tale proposito l'abbondanza di studi specifici e di riferimenti all'astrologia da parte dei grandi maestri musulmani del passato un grande sapiente albiruni matematico geografo astronomo e astrologo nato nel 362 del Leggira 973 d.C. e autore di numerose opere scrisse fra i suoi testi più importanti il libro delle istruzioni sui principi dell'arte dell'astrologia il testo è una vera e propria enciclopedia che riporta un'enormità di conoscenze astrologiche provenienti dal mondo greco iranico ma soprattutto indù ed è ritenuto il più importante testo astrologico mai scritto in ambiente islamico solo ad una lettura superficiale potrebbe sembrare un testo astrologico simile a quei manuali scritti negli ultimi secoli nella realtà si tratta di una dissertazione in cui l'astrologia è parte dello studio della cosmologia la conoscenza del macrocosmo è imprescindibilmente legata alla dimensione microcosmica cioè alla dimensione umana macrocosmo e microcosmo si compenetrano e si spiegano vicenda in tale prospettiva l'astrologia trova il suo senso e significato di scienza tradizionale e diventa un sopporto per conoscere se stessi non per cercare la soddisfazione delle proprie funzioni individuali come pensa adesso la gente ma come dice un adagio tradizionale conosci te stesso e conoscerai il tuo signore anche nell'opera di Muiddin ibn Arabi alcune sue considerazioni ci permettono di comprendere come la scienza astrologica si riallacciasse a principi metafisici e conoscitivi e come tale scienza tradizionale abbia ben poco a che fare con i pochi frammenti giunti all'occidente moderno con lo stesso nome e ridotti alle applicazioni più banali e contingenti in un volume dal titolo la chiave spirituale dell'astrologia musulmana Ibrahim Titus Burka osserva come la prospettiva simbolica dell'astrologia e di tutto il mondo tradizionale antico prendeva come sistema di riferimento quello geocentrico sistema che non dipende naturalmente dalla realtà puramente fisica o spaziale la sola che sia considerata dall'astronomia moderna il sistema geocentrico è però conforme alla realtà come si presenta all'uomo e possiede in sé tutta la sua coerenza logica che un insieme di conoscenze deve avere per poter costituire una scienza esatta una scienza che per rialacciarmi a quello che mi dice è una scienza che serve per andare oltre non per solo misurare la cosmologia non per misurare il cosmo ma per uscire dal cosmo per andare al di là dei condizionamenti la scoperta del sistema geocentrico e sarebbe meglio parlare di divulgazione visto che la conoscenza di c'è sempre esistita una conoscenza della centralità del sole rispetto e queste cose e però questa diffusione di questa conoscenza corrisponde ad uno sviluppo possibile ma molto particolare della conoscenza empirica del mondo sensibile tale sistema geocentrico non può in ogni caso mai dimostrare nulla contro la posizione centrale dell'uomo nel cosmo soltanto manifesta la possibilità di concepire il mondo planetario come se lo si contemplasse da una composizione non umana o addirittura come se potesse fare astrazione dall'esistente dell'essere umano tale prospettiva non ha in sé alcunché di negativo anche se nella pratica è uno dei punti su cui si basa il relativismo moderno che porta l'uomo a dimenticarsi di essere creato secondo la forma del misericordioso che è ciò che gli permette di andare al di là di se stesso e quindi perde la propria centralità nella creazione divina e la propria funzione di Califatallah sulla terra la cosmologia tradizionale pone al centro della creazione divina l'uomo e di conseguenza le scienze tradizionali polgono la terra su cui l'uomo si trova al centro della creazione e leggono nei movimenti del sole della luna e delle stelle un rapporto utile alla conoscenza di sé a tale proposito il sacro corano afferma nella sura 17 dell'ape versetto 12 e vi ha servito la notte e il giorno il sole la luna e le stelle e ha sottomessi a voi per un suo ordine che è un segreto in questo per gente che ragiona il sole la luna e le stelle sono quindi secondo il dettato coranico asservite all'uomo ma sempre secondo il sacro corano nella sura 22 del pellegrinaggio versetto 18 non vedi che tutti nei cieli e sulla terra si prosternano davanti a dio il sole la luna e le stelle i monti e gli alberi e gli animali e un gran numero di uomini questo rapporto tra l'uomo e i movimenti del sole dei pianeti delle stelle a lui subordinate e ciò di cui si occupa l'astrologia o forse meglio si dire si occupava allo scopo di mettere in ordine l'uomo sulla terra e con il cosmo per trovare quell'equilibrio che poteva permettere all'uomo alle creature tutte agli animali alle piante ai corpi celesti ci si riallaccia ai concetti già spessi dalle due relattrici precedenti senza voler di essere in ordine per meglio adorare e servire il proprio Signore un aiuto perché le creature che ne avessero l'intenzione potessero sforzandosi e combattendo contro le pulsioni inferiori dell'anima sempre presenti di vivere in quell'equilibrio interiore che tanto agognano gli uomini di questi tempi ultimi e che rimarrà sempre possibile per coloro che non si subordinano alle degenerazioni del mondo nel mondo del Caliugel di cui si accennava prima spacciate per libertà ma che continueranno a sforzarsi di essere in quell'ordine ed equilibrio che solo la sottomissione alla superiore volontà di Dio permette ad un livello cosmologico sottile le stelle rappresentano la protezione nei cieli dalle forze inferiori e sono le custodi della luce celeste a tale proposito il corano nella sura 15 al hijr versetto 16 dice già ponemmo torri nel cielo e le adornammo agli sguardi e le guardammo attenti contro ogni demone vive ma la perdita della prospettiva conoscitiva e spirituale la parte in parte anche legata alla scienza astrologica fa sì che la funzione delle torri le costellazioni zodiacali pur rimanendo in principio valida venga nella pratica completamente aggirata dall'uomo profano alla fine dei tempi e l'astrologia divenga parte integrante di quell'operatività di maghi indovini più volte denunciata nella sacro corale per quanto riguarda la ortodossia dell'interpretazione delle torri come che sono le costellazioni zodiacali si può consultare il commentario già citato precedentemente di due maestri Jalaluddin al-Mahalli e Jalaluddin al-Suyuti e veniamo all'escatologia i cui tempi sono annunciati proprio dal proliferare dei maghi degli indovini lo spazio riservato nelle fonti scritturali islamiche sia sul sacro corano che negli adid del profeta e detti fatti della vita del profeta a riguardo della fine dei tempi è molto rilevante e questo per richiamare gli uomini dei tempi di fine ciclo a riconoscere la caducità dell'esistenza sia personale che di tutta l'umanità e anche della creazione stessa il profeta Muhammad diceva sono stato inviato io e l'ora così e mentre parlava faceva segno con le due dita unite ma resta ora come 1400 anni fa inutile cercare di sapere quando verrà quest'ora perché tale conoscenza non appartiene che a dio il profeta interrogato questo proposito disse l'interrogato non ne sa di più di chi lo interroga a tale proposito anche il sacro corano afferma ti interrogeranno sull'ora quando verrà di la sua scienza è presso il mio signore nessun altro se non lui la manifesterà a suo tempo essa pesa sui cieli e sulla terra e non verrà che all'improvviso corano 7 186 anche se non è possibile e non si deve cercare di sapere quando giungerà l'ora finale alcuni segni precursori sono stati rivelati dal profeta Muhammad quando i suoi compagni gli chiesero di parlarne e gli disse fra l'altro quando la schiava genererà la sua padrona e quando vedrà i pastori di cammelli neri che competteranno nella costruzione di edifici sempre più alti per quanto riguarda la seconda parte di questo adit possiamo solo dire che fa abbastanza effetto vedere la gara a costruire edifici sempre più alti che impegna alle elite della penisola arabica mentre per quanto riguarda la prima parte fa riferimento alla perdita di ogni origine gerarchico nella creazione e fra gli esseri umani a cui si accennava già in precedenza esprime simbolicamente la confusione della fine dei tempi quando persone prive di qualità si proveranno a guidare le nazioni e quando i veri sapienti saranno ritenuti dalle masse dei poveri pazzi un altro adit detto del profeta parla esplicitamente di queste questioni ad un beduino che gli chiedeva notizie sull'ora il profeta rispose quando il deposito al amana non è più rispettato aspettati la venuta dell'ora si tratta qui del deposito della fede di cui solo l'uomo ha accettato di farsi carico dal principio dei tempi il beduino insistetta chiedendo in che modo il deposito non è rispettato e il profeta rispose quando si pone il comando nelle mani di coloro che non ne sono degni aspettati la venuta dell'ora questa è la prospettiva dell'islam gli eventi esteriori costituiscono i segni delle realtà interiori i disordini della società testimoniano dunque simbolicamente la scomparsa della vita spirituale e i segni esteriori che si manifestano nel mondo di oggi sembrano portare a compimento inesorabilmente le parole del profeta Muhammad anche la comunità islamica si va scendendo in gruppi in fondamentalismi panarabismo presa del potere da parte di gruppi ideologizzati strumentalizzazione del potere a fine individuali ideologici politici poi c'è la frenetica esagitazione del mondo la cosiddetta vita moderna la vita civile il profeta richiamava in un altro addizio la fine di tempi alla superiorità della contemplazione sull'azione colui che sarà seduto varrà di più di colui che sarà in piedi colui che sarà in piedi varrà di più di colui che camminerà colui che camminerà varrà di più di colui che correrà colui che vorrà vederli sarà travolto da loro colui che troverà un asilo vi si rifugia pochi sanno che i musulmani condividono con il cristianesimo l'attesa del ritorno di Gesù il figlio di Maria il quale è un'importanza fondamentale negli avvenimenti che caratterizzano i tempi finali il suo ritorno è annunciato con queste parole dal profeta Muhammad lo giuro per colui nelle cui mani l'anima mia accadrà d'improvviso che il figlio di Maria scenderà tra di voi come un arbitro imparziale seidinaista nostro signore Gesù la tradizione è per la dottrina islamica il sigillo della santità egli rappresenta la dimensione interiore della religione quella della retta intenzione che testimonia la purezza del cuore e vivifica gli altri questo periodo di frenesia e di confusione che stiamo vivendo e che è immediatamente precedente agli eventi escatologici è secondo i sapienti musulmani il periodo della racma della misericordia un periodo in cui Dio è particolarmente vicino agli uomini anche se la maggioranza di loro si è totalmente dimenticato di lui della religione e delle pratiche necessarie per ricondurre le creature al creatore ma questa dimenticanza umana non intacca la verità della vicinanza di Dio a lui sono molti gli adit che parlano di questi tempi che precedono la venuta di Gesù in particolare descrivono la figura dell'anticristo citazione egli è guercio da un occhio e porterà con sé un'immagine del paradiso e un'immagine dell'inferno quello che egli dirà essere il paradiso sarà in realtà l'inferno dalla creazione di Adamo fino al giorno in cui si leverà l'ora non vi sarà evento più grave della venuta di al-dajjal l'impostore ma prima del ritorno di Gesù la misericordia divina si manifesterà ancora secondo la tradizione islamica tramite la comparsa di un imam ben guidato l'imam al-magdi che sarà la guida di un'elite spirituale all'interno della tradizione islamica con la funzione di preparare il ritorno di Gesù il magdi sarà il punto di collegamento tra la profezia muhammadiana e la santità cristica egli seguirà le orme del profeta e preparerà i passi di essa anticipando e realizzando in anticipo un carattere e una funzione cristica di rinnovamento finale della religione e soprattutto dei cuori dei credenti che verranno riforgiati dalla spada della sincerità la sincerità sarà l'arma intellettuale per eccellenza e permetterà il discernimento nel caos della fine dei tempi al momento opportuno che solo Allah e Dio sa quando sarà Gesù scenderà in terra per soccorrere gli ultimi credenti nello scontro finale contro il Dajjal l'anticristo e le sue forze infernali e visto Gesù Issa il nemico di Dio si scioglierà come il sale ci so scioglie nell'acqua il destino del male infatti di ritornare al nulla che è la sua essenza e quindi avremo la fine di un ciclo e l'inizio di un nuovo ciclo e grazie grazie all'imam Maddara Zabergia per questa relazione anche che dà un senso appunto del ruolo come è stato detto dell'Islam come ultimo anello di uno di questi microcicli che sono sempre la natura sempre ciclica anche della storia della nostra del nostro mondo e della nostra umanità effettivamente l'Islam è più concentrato sull'escatologia forse e vediamo spero sia una visione condivisa dalla tradizione più antica all'induismo passando per il buddismo c'è sempre di più un avvicinarsi alla natura di un uomo che come dicevano appunto la reverenda Seixin e Shuddananda è sempre più nella decadenza dei tempi e dei cicli diventa sempre meno consapevole del cosmo è sempre più ingabbiato o apparentemente consapevole del proprio io per questo cambiano le forme già a partire dal buddismo c'è un richiamo alla una dinamica più di liberazione da se stessi come abbiamo sentito e l'islam si occupa un po' di andare forse nel dettaglio di questa liberazione ma forse nella cultura europea forse così non voglio dire di direttaggio più vicino alla tradizione alla visione anche di Gesù nel cristianesimo per non fare dei sincretismi sarà bello forse come prima domanda per un dibattito magari approfondire il collegamento senza anche qui senza sincretismi ma abbiamo sentito parlare dell'uomo primordiale o della primordialità anche della della natura dell'uomo della centralità della natura dell'uomo come leggiamo questa primordialità o questa universalità nei profeti in particolare in questi due profeti che sono così vicini come in questo ciclo come Muhammad e Gesù o Isa secondo la nomenclatura coranica questa può essere una domanda che così propongo anche all'imam Idris Berger se ci può aiutare proprio per dare un senso che così in questo è un po' una domanda trasversale nel senso in che modo apparentemente siamo passati dall'intellettualità alla morale ma che collegamento c'è che cos'è l'essenza di una morale di un dharma di una via verso la liberazione è solo qualcosa di psichico di emotivo o qualcosa di più di più sostanziale che riguarda proprio la natura del creato nel suo insieme e un'altra riflessione se mi permette sempre l'imam Berger e gli altri relatori prima di passare alle domande del pubblico che nel frattempo sono arrivate è un piccolo riflessione su questo questo segno dei no dei beduini del deserto che cominciano a costruire grandi palazzi certo c'è la penisola arabica ma in questa lettura forse si dà per scontato che invece noi o l'occidente saremmo autorizzati o avremo per natura quella di costruire grandi palazzi e va bene così la riflessione che mi veniva ascoltando è un po' quanto anche noi dovremmo essere beduini del deserto e non lo siamo più nel senso che si può ancora accedere a una vera conoscenza senza abbandonare un po' dei retaggi degli schemi di un mondo che si è solidificato e consolidato in questa gara di grandezza e di altezze cos'è una riflessione un po' per tutti ecco spero che ci sarà risposta nel frattempo scusate vado a leggere due domande che sono venute dal pubblico quindi ho dato un po' di suggestioni poi liberamente lascerò un giro di risposte come sui temi che preferite riprendere approfondire leggo una domanda del nostro presidente Iacchia Zanolo presidente dell'Accademia di Studi Interreligiosi che ringrazia tutti e così riprendendo il tema menzionato da Shuddananda sul fatto che alcuni elementi di un ciclo vengono utilizzati per la nascita di un ciclo successivo se è possibile approfondire questo punto anche in relazione all'attualità di oggi anche questa può essere una domanda per Shuddananda ma un po' per tutti e tre i relatori e un'altra domanda chiede alla fine dei tempi i veri sapienti saranno ritenuti dei pazzi dalla gente comune questo è Mustafa della Corais Giovani ex presidente uscente della Corais Giovani alla luce di questa consapevolezza come potrebbero proteggersi da un orgoglio solitario gli amanti della sapienza alla fine dei tempi anche questa mi sembra una bella domanda per tutti e tre magari riprendiamo da Shuddananda che da un po' di tempo che aspetta di poter così dare ancora un contributo e poi a seguire se riusciamo a dividerci l'ultimo tempo disponibile grazie in realtà ho ascoltato con piacere e anche con interesse anche le similitudini e i richiami che poi ci sono stati ma grazie della domanda in realtà rispondo citando un testo che è la charakasamita un estratto ovviamente perché richiama un pochino e mette insieme i vari aspetti che sono stati che sono emersi in questo testo c'è appunto il saggio il suo discepolo quindi il maestro e il discepolo che si interrogano sulla causa della malattia e in questa lunga disquisizione che il maestro fa a un certo punto appunto risponde al discepolo dicendo allo stesso modo la violazione della legge quando si parla di legge parliamo di dharma come abbiamo accennato prima è la causa della distruzione delle popolazioni con la forza delle armi e questo per richiamare l'attualità di cui parlava il presidente coloro che hanno sviluppato in eccesso l'avidità la collera la confusione mentale e l'arroganza disprezzando i deboli combattono tra di loro con le armi provocando la morte della loro propria gente o di altre genti oppure attaccano altri o ne sono attaccati perfino nei primordi niente di indesiderabile avvenne se non a causa della violazione della legge che è più bello dire d'arma perché è più appunto comprensivo durante l'età iniziale quindi parla del Satya Yuga l'era d'oro gli uomini erano vigorosi come i figli di Aditi Aditi appunto è l'espressione prima della quella che da nascita è la madre degli aspetti celesti degli dèi se vogliamo dire così quindi tutti quegli aspetti luminosi della manifestazione eccellenti per purezza e poteri conoscevano direttamente i celesti quindi i deva i veggenti divini i risci la legge naturale le regole le procedure ed esecuzione dei riti avevano corpi compatti e stabili come il cuore di una montagna la loro carnagione di loro sensi erano chiari nel senso di puri erano dotati di forza velocità ed energia durante l'età iniziale gli uomini erano vigorosi come i figli di Aditi e questo l'avevano detto poi andando avanti e questo è anche bella questa immagine per quelle persone perfette nella mente nella qualità nelle azioni raccolti crescevano dotati di straordinari rasa cioè di sapore di gusto di forza mentre invece nel Krita Yuga quindi andando avanti nell'età del tempo quindi nella degenerazione verso la fine del Krita Yuga a causa del troppo mangiare nei corpi di alcune persone ricche si sviluppò pesantezza la pesantezza del corpo portò alla stanchezza la stanchezza alla pigrizia la pigrizia ha la tendenza ad accumulare la tendenza ad accumulare ha la tendenza a trattenere per sé e la tendenza a trattenere all'avidità tutto ciò avvenne nella prima età nel Krita Yuga l'avidità condusse alla malizia e questa è la parola falsa la parola falsa al desiderio alla collera all'arroganza all'odio all'asprezza alla violenza alla paura alle afflizioni alla tristezza all'ansietà e così via e qui prosegue adesso non abbiamo il tempo per andare avanti però questo chiudo come l'età perfetta nell'universo così è l'infanzia nell'uomo come l'età treta nell'universo così è la giovinezza nell'uomo come l'età duopara nell'universo così è la vecchiaia nell'uomo come l'età cali nell'universo così è la malattia nell'uomo come la fine delle aree nell'universo così è la morte dell'uomo analogamento agnivescia è possibile conoscere per inferenza la similitudine di altri specifici componenti dell'universo dell'uomo che non sono stati menzionati qui va avanti mi tralascio il tutto ma questo per ho voluto leggere questo passo per mettere in evidenza quello che era emerso il fatto di dire dall'aspetto cosmologico scatologico sia arrivata la morale vedere come questi due aspetti sono estremamente legati e vincolati e quindi andando avanti nel discorso il maestro dice al discepolo che la via appunto è quella di avere una mente pura la mente non immacolata ripulita da quei mezzi di purificazione come uno specchio illustrato dall'olio dallo strofinaccio dalla spazzola dagli altri strumenti di pulizia come brilla il disco solare non più coperto da pianeti nubi polveri fumo e nebbia allo stesso modo brilla la mente priva di impurità la mente che è ferma nel sé con tutte le vie d'entrate e bloccate brilla come una luce nella lampada pura stabile e con raggi chiari qui poi va avanti con tutta una serie di appunto di come si può cioè di riportare l'attenzione quindi all'osservanza del dharma della legge come abbiamo letto che lo traduce e quindi attraverso questo è possibile anche riscoprire quel senso anche di interrelazione interdipendenza che è anche il vedere il microcosmo e il macrocosmo come aspetti di un'unica realtà e quindi anche il fatto di rivedere attraverso le memorie quello che noi viviamo è perché noi siamo costituiti degli stessi sei componenti di cui è costituito l'universo e chiudo se non tolgo tempo agli altri grazie grazie sei sempre troppo generosa nel lasciare spazio ma se veramente se c'è ancora qualche parola benvenuta altrimenti passo la parola a Sishin Viviani se bastano gli spunti di riflessione per un secondo intervento prego lascio la parola liberamente Sì scusate vorrei vorrei condividere un'altra immagine che secondo me è molto chiara vediamo se la vedete con la nuova condivisione vediamo un po' scusate forse è da mettere a schermo intero ma è visibile è visibile? Sì però ecco adesso è a schermo intero ma questo è giusto per capirci allora il tema di oggi era la cosmogonia e i cicli cosmici detto questo la mia premessa iniziale era abbastanza diciamo sono pastrita diciamo dalla fine per dire quello che realmente diciamo è il punto diciamo della nella via del Buddha qual è il punto fondamentale è la liberazione quindi è un ortoprassi in questa immagine che vi faccio vedere di fatto sono tutti gli elementi del nostro diciamo della della via di liberazione ma la cosa interessante è il fatto che tutto l'uomo di qualsiasi età di qualsiasi in qualsiasi momento è sottoposto alla legge dell'impermanenza che è quella rappresentata da questo grande diciamo questa tigre che tiene una da questo mostro che tiene una ruota quella è la ruota delle esistenze da che cosa è determinata la nostra esistenza è determinata cioè ci sono sei mondi in cui sono sei regni che sono proprio che noi come esseri umani viviamo costantemente come esseri umani noi abbiamo questo è molto chiaro nel buddismo abbiamo la possibilità siamo l'unica manifestazione che è la possibilità di uscire da questa ruota delle rinascite della vita della morte come esseri umani mentre tutte le altre diciamo esseri di tutti gli altri regni il regno degli animali gli dèi il regno degli spiriti ribelli i regni degli spiriti famelici e il regno di chi è soggetto diciamo all'inferno causato dalle proprie azioni malvagie sono sempre sottoposti diciamo a questa continua nascita rinascita perfino gli dèi se voi guardate in questa immagine al di fuori c'è sul lato in alto a destra c'è l'immagine di il buddha che indica la via quindi la via la liberazione da questo ciclo eterno di rinascite di da che cosa di rinascite dalla diciamo dal dualismo dalla costante diciamo riprodursi di vita morte da che cosa è dovuta questa vita morte è dovuta dal fatto dalla non consapevolezza di quella che è la nostra realtà la realtà allora così come sudananda vi ha citato un testo importante vi cito un testo alcuni versi del dhammapada soprattutto rispondendo un po' alla alla domanda di uno delle diciamo una delle domande che sono state fatte qual è il ruolo allora dei saggi qual è il ruolo dei sapienti ecco è sempre possibile questa liberazione questo è il messaggio universale del buddismo è sempre possibile liberarsi da questi cicli in fondo la cosmogonia ci parla questi infiniti mondi di cui parla il buddismo per parlare di quanto è infinita la realtà però da questa ciò che è importante è proprio il percorso di liberazione quindi come vi dicevo all'inizio Buddha non risponde alle domande di metafisica ma c'entra subito il punto nodale della questione la liberazione attraverso le quattro nobili verità questa alle quattro nobili verità allora chi persegue la via chi diciamo vuole uscire dalla diciamo dal vincolo del karma e il karma in questo senso è l'azione l'azione diciamo che porta diciamo alla continua rinascita deve lavorare sull'intenzione ecco questa è una grande differenza che c'è con altre tradizioni religiose precedenti diciamo ho trovato questo sul web è proprio l'intenzione quindi il karma è la nostra intenzione il nostro agire verso il bene che ci libera e questo è sempre possibile in qualsiasi epoca in qualsiasi momento guardate all'interno delle tradizioni buddiste una delle abbiamo parlato prima mi sembra abbia accennato Shuddanada al Kaliuga il periodo della diciamo questo periodo che noi stiamo vivendo in qualche modo di dissoluzione un periodo diciamo drammatico tragico ed è stata una diciamo una delle diciamo delle suddivisioni diciamo delle ere che è diciamo a periodi alterni è ritornato nella storia del buddismo è il periodo in cui si è lontani dall'insegnamento si è lontani dalla dalla pratica della via ma è possibile questo è sempre possibile nel Dhammapada che è uno dei testi più importanti della nostra tradizione ed è trasversale a tutte le tradizioni buddiste perché quando si parla di buddismo io oggi preferrei parlare di buddismi perché sono veramente diverse scuole diverse tradizioni ma questo testo resta veramente una pietra migliare quando si parla del saggio e il saggio è colui che pratica la via del buddha pratica il sentiero indicato dal buddha dal buddha si dice spuntano doni dal cielo stando in compagnia di chi è saggio e perspicace di chi con accortezza offre dissuasione e consiglio come guidando in un tesoro nascosto che il saggio guidi gli esseri via dall'oscurità che offre orientamento e consiglio ne farà tesoro l'onesto di rifiuturare lo storto non cercare la compagnia di chi è sviato guardati da chi si è guastato cosa vuol dire chi si è guastato e chi si è allontanato dalla ricerca cerca la compagnia di chi è ben guidato di chi dà sostegno alla visione profonda abbandonarsi al dharma porta serenità il saggio vive nella perenne gioia della verità del risvegliato che è stata rivelata quindi la rivelazione del buddha che è possibile ad ogni essere umano affrancarsi dalla ruota della sofferenza è possibile sempre naturalmente l'ottuplici sentiero che come sapete nelle quattro nobili verità è proprio indicato come via di perfezionamento è seguita e può essere applicata in tutte le sue forme anche nella nostra società moderna quindi non c'è niente che il messaggio del buddha diventa universale proprio perché non è legato ad una diciamo ad una verità storica è universale per questo perché in qualsiasi momento si possa riprodurre questa comprensione della realtà e questa comprensione della nostra missione del nostro essere come presenti come esseri umani sulla terra che vuol dire liberarsi dalla sofferenza perché perché vuol dire realizzare la propria natura che è insita in tutti gli uomini che noi chiamiamo natura di buddha c'è la natura di chi è risvegliato alla vera via di libertà e di pacificazione grazie grazie molte grazie molte ringrazio anche l'imam Abdelazak della pazienza così nell'imminenza escatologica della fine della giornata di digiuno se ancora la disponibilità di un ultimo commento prima di lasciargli la parola leggerei un ultimo commento di chi ci ha seguito nella diretta facebook Ghita Miceli De Biase che dice bellissime molto interessanti le assonanze tra le diverse tradizioni religiose grazie agli organizzatori per aver organizzato un incontro così stimolante a testimonianza che le religioni possono davvero aiutare l'uomo e la donna a vivere in modo armonico le relazioni tra gli esseri accompagnare i devoti ognuno a proprio modo è lo scopo ultimo e io giro il ringraziamento soprattutto alle relatrici e ai relatori che hanno arricchito e che hanno reso vivo questo questo incontro e che rimarrà ultimo del ciclo di quest'anno del Daralikma rimarranno gli incontri registrati su facebook a disposizione di chi voglia approfondire in un secondo momento lascio l'ultima parola all'imam Abdelazah che ringrazio e saluto a tutti io ringrazio ringrazio e sono anch'io molto contento perché si vede veramente questa sintonia che va al di là delle forme e veramente si vede come tutte le forme non vengano che da una stessa fonte e poi si declinano in modi provvidenzialmente differenti però credo che come diceva l'ultima la signora che ha fatto l'ultimo momento è molto interessante proprio questa fratellanza nella diversità ma nell'unità e mi permetterei solo di dire ancora ci sarebbero molte cose che varrebbe la pena di veramente di commentare il discorso sull'intenzione fatto da Elena Seixin è una parte come dire gli atti valgono per le intenzioni nel mondo per quanto riguarda l'Islam è una cosa fondamentale si potrebbe approfondire ma il tempo non c'è non c'è per approfondire tutto una cosa vorrei dire ecco rispetto quando alla domanda di Mustafa quello che ci che permette di non diventare orgogliosi è veramente quello che da sempre le rivelazioni arrivano per delle comunità sono dei dei profeti sono dei realizzati sono dei veggenti non importa quale termine usiamo nelle varie tradizioni ma poi queste avvengono per delle comunità e quindi la comunità e la possibilità di confrontarsi all'interno di una comunità è quello che aiuta e se la maestria spirituale quindi la possibilità di essere verificati nelle proprie nella propria vita nelle proprie scelte e questo è fondamentale questo permette alle persone di non inorgoglirsi anche se alla fine dei tempi qualcuno potrebbe pensare di essere così tanto bravo perché siamo tanto pochi ma non è questo il piano se una grazia ci permette ancora di avere un'intenzione di andare al di là veramente di uscire dal mondo delle forme di veramente di andare al di là ringraziamo di avere questa grazia e veramente approfittiamo dei mezzi che la tradizione ci dà nella comunità nella maestria per poter se Dio vuole inshallah accedere a tutto questo e grazie di cuore veramente alla relatrice alle relatrici e alla moderazione grazie ancora a tutti mi permetto di chiudere ringraziando anche Genesi Communication Design che ci ha assistito tecnicamente in questa ultima così puntata del ciclo di Daraligma tutta online ringrazio ancora anch'io Yunus Taufik e il centro culturale Daraligma che ha reso possibile l'inizio e il proseguimento di questi incontri e speriamo di proseguire l'anno prossimo abbiamo già così del lavoro in cantiere seguiteci così saprete di cosa si tratterà e spero che avremo ancora tra di noi le relatrici e i relatori di questa sera e quelli che hanno onorato tutto questo ciclo un saluto a tutti e continuiamo a lavorare insieme arrivederci a tutti grazie a tutti arrivederci grazie grazie al prossimo inshallah inshallah arrivederci grazie grazie grazie